Così, fra fulmini, tu viva in me Giordana! E' viva! Buongiorno! Questa che accoglienza! Io appena tu ho visto e tu sei... Io mi sono iscritta a Sanremo Social senza etichetta, senza produzione, senza mezzo, senza niente, con la mia tasterina ogni 80, cioè 100 euro di materiale in poche parole, quindi mi sono iscritta con questa canzone piano in voce solo che a Latina, nella parte in cui ero io in quel momento, non c'era wifi io avevo tre ore di tempo per mandare la canzone, sennò Sanremo sarebbe stato finito per me. E come hai fatto? Ho chiamato la mia migliore amica dicendo, vai Veronica mettimi sta canzone e pubblicamela perché sennò io non ce la faccio. La pubblica e come mi scrive Dana, perché lei gli piace il nome Dana, allora lei ha deciso che io mi dovessi chiamare Dana. Grazie tesoro mio. Perché soldati brividi mi attraversano tormentano senza spazio come una fine Editi, incolli, fai copi con gli editor musicali? Guarda, tra l'altro... attenzione, lo spot dell'NGM che sta andando in onda è una mia canzone, si chiama Me Against the Blues è una canzone che ho fatto totalmente io batteria, chitarra e sta andando in onda beh, ci sono proprio sei secondi, si sente solo Me Against the Blues, basta fantastico! Però c'è, e quella è via non solo in tv, lo vedi quando vuoi tu